Una serata sfavillante in piazza Duomo ieri, quando il maestoso albero di Natale si è illuminato. 100.000 luci a lede e 700 palline natalizie per un abete alto più di 30 metri. L'accensione è stata accompagnata da una coreografia di luci e colori, realizzata grazie a migliaia di braccialetti luminosi, distribuiti gratuitamente ai partecipanti. L'evento è stato poi impreziosito da uno spettacolo scenografico degno di nota, con una coreografia di luci e colori e poi canti natalizi che hanno permesso di entrare in questo magico momento dell'anno. Alla cerimonia di accensione hanno partecipato il sindaco cittadino Giuseppe Sala e l'assessore al turismo, sport e qualità della vita Roberta Guaineri. Milano vive un momento di crescita, ha detto il primo cittadino Sala, e così abbiamo deciso di avere per questo Natale l'albero più alto. Tante aziende stanno manifestando la loro fiducia nella città, anche creando occupazione. L'albero di Natale in Duomo resterà acceso fino al 7 gennaio, quando è ufficialmente chiusa la lunga pausa natalizia.